Per il Festival di Maggio facciamo questa volta una opera di Verdi che non è così conosciuta come altri come Rigoletto, Traviata, Otelo, anche Simone Boccanegra, ma io penso è molto necessario che si sente quella opera, I due Foscari. Verdi ha fatto questo dopo Nabucco, dopo Lombardi, dopo Hernani. È possibile su più breve opera, ma per me è una opera molto importante perché si sente delle cose che non si sente prima e anche non si sente dopo. Verdi lavora con una tecnica di Leitmotivik di Wagner in questo periodo. Lui ha sentito Wagner e questo è molto interessante e non ritorna così mai in due altre opere. Due Foscari è una storia del XV secolo, è vero, una storia di Venezia, il doge Foscari che era il doge per lunghissimo tempo. Lui vive 84 anni che in questo periodo è quasi impossibile e i suoi nemici contrari sono la famiglia di Loredano. C'è un pochino come Capoletti e Montecchi, due famiglie che veramente fanno battaglia, vendetta e provano di ammazzare uno e l'altro. E questa è la storia che il figlio di Foscari, del doge Foscari, è denunziato di essere un traditore. Lui deve andare in esilio, ritorna in esilio e ancora c'è una sentenza contro lui e deve andare ancora in esilio. Il problema è il padre Foscari, primo giudice come doge, ma anche padre. E questa è la storia di questa opera, famiglia e governamento. E questo è interessante anche le azioni, ma è un po' scuro, è un po' molto divertente, non è una cosa giubilare. Abbiamo un ballo anche dentro, una barcarola, un po' come dopo in La Gioconda si sente questo, ma qua anche all'inizio del terzo atto che il pubblico vede i ballerini. In questo momento tutto il mondo diventa chiaro, diventa felice, ma subito dopo sono due trombetieri e la barca viene quasi per esilio di figlio di doge e lui deve andare via. E sulla barca dopo qualche giorno lui morirà dal colpo di cuore perché lui non può andare via, lui è distrutto. Quell'opera ha bisogno di grandi cantanti perché sono tre ruoli molto difficili. Il ruolo del vecchio doge, che il nostro Placido Domingo è fantastico dall'età e dalla voce. E bisogna un tenore suo figlio con una voce anche formidabile, abbastanza forte, ma anche con possibilità di cantare piano. Abbiamo un nuovo cantante americano, Jonathan Tettelman e sua moglie Lucrezia, Marie-José Ziri, conosciuto molto qui in Firenze, di Nabucco. Un ruolo come l'Abigail, la stessa difficoltà con cabalette incredibili, ma anche lei è perfetto per questa parte. È un maestro grande, Carlo Rizzi, che viene qui e noi siamo molti amici e lui lavora perfetto con i cantanti. E spero voi venite qua a vedere questa qui a Firenze in quel nuovo auditorium. Le scene sono fatte per questo auditorium. Signore e signori, venite qui, guardate. Io penso che molti di voi mai hanno visto prima o anche non sentito. Per favore venite. Io sono molto contento quando la sala è piena. Grazie molto. Grazie a tutti.